come promesso un mese fa ragazzi incominciamo a giocare a spider man 2 e potevamo farlo in maniera normale assolutamente no partiamo direttamente con una challenge visto che abbiamo visto visto che abbiamo visto visto che dovrebbe durare all'incirca 25 ore no perché abbiamo visto tramite google dovrebbe durare in circa 25 or ci siamo detti riusciremo a finire riusciremo a finire in 25 ore spider man a livello spettacularis che è il livello più difficile della prima run andremo a vedere adesso possiamo andare full screen c'è full screen col gioco leggiamo un attimino i commenti che smurcut grazie mille per i regali carissimo grazie 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 io direi che possiamo iniziare ci siamo tutti io direi che possiamo iniziare quindi partiamo livello spettacolo aspetta no e no aspetta ci va il time ci va il timer il timer il timer fermi tutti i ragazzi dobbiamo mettere il time scusate ma il termine il time visto che ho visto allora il un attimino ce l'ho qua giusto dov'è il timer ha sparito il timer allora da quando parti perché non si aveva il timer eccolo eccolo allora ci siamo gabrie 3 2 1 via via no ok aspetta hai già schiacciato via nuova partita ci siamo il timer è partito ah raga questo non lo conosco due anni fa due anni fa l'introduzione questo me lo ricordo il venom non ti ricordo hai zitto adesso lasciamo un po' l'audio ok c'è il dialogo però no aspetta gabrie non abbiamo messo i sottotitoli noi non abbiamo ci siamo dai lo dico io scusa stai bene stai bene mi fai una promessa sì certo se non funziona uccidimi funzionerà sai che non mi resta molto tempo vorrei averlo per salutare ascolta non ti lascerò morire farò qualsiasi cosa per non perderti la campanella c'è per un motivo prendete posto eccomi buongiorno ragazzi da oggi abbiamo un nuovo insegnante nella scuola ciao io sono il signor parker e voi siete fortunati perché questo è il corso di fisica e la fisica spacca vi siete mai chiesti come fanno alcuni insetti uccelli o rettili a camminare sull'acqua due parole tensione superficiale bagno posso ok questa tensione si basa sulla coesione ok nell'equazione la tensione si esprime con gamma ovvero la forza esercitata parallelamente alla superficie del liquido f divisa per la lunghezza l della linea sopra cui agisce la pezza qualcuno mi serve una mano il signor morales giusto sicuro di non poter risolvere il problema da solo sicuro ok ragazzi leggete il capitolo 4 o 5 quello che è ma il su questo lavoro mi serve se la preside si accorge che sono sparito mi licenzio lo so ma questa devi vederla marco proprio oggi ok addio lavoro non ci siamo andiamo ok ci siamo via ma io sono un'idea sapere tutto perché sull'altro spedale l'ho già finito l'altro l'ho già finito l'altro l'ho già finito l'ho già finito vabbè ma qua siamo una rana non l'è ancora finito raga per quello secondo non lo intendo questo adesso io non lo chiamo terzo perché in realtà ne sono fitti i 3 di spedale tra l'altro ringraziamo tutti gli amici che ci hanno già fatto dei regali gio donazione grazie mille smurf cut grazie mille per il 2021 su twitch ciao a tutti ragazzi ovviamente siamo partiti con la run di spiderman e quindi insomma cerchiamo di andare avanti il più possibile seguiremo molto bene il gioco non leggeremo tutta completamente la chat come facciamo di solito proprio perché siamo siamo in challenge e dobbiamo cercare di finirla in 25 ore l'abbiamo detto giusto 25 ore 25 ore ok quindi ci siamo come vedete c'è un timer sotto le nostre test dipende da dove lo vedete vi ricordo che siamo anche live su twitch ovviamente se vi fa piacere vederlo a scan un pochettino più grande un pochettino migliore e il timer ovviamente sarà poi sempre aggiornato allora qua cosa succede è arrivato a senna è arrivato lorenzo è arrivato perfetto perfetto gabri concentrazione al massimo esatto anche perché dicevo che nelle 25 nel pacchetto di 25 ore noi tenderemo anche a fare qualche missione secondaria non facciamo solo le missioni primarie quindi insomma e considerando che stiamo giocando il livello più alto possibile ovviamente eccolo è amazing ok ci siamo siamo 4 uomo sabbia e che cacchio devo fare? non lo so io mi prendo male non l'ho mai vista tra l'altro io lo vedo per la prima volta che cacchio devo fare? che cacchio devo fare? che cacchio devo fare? aia bolla in che senso mi sconfiggi no? ma mi beccato ma che cacchio devo fare? io ho visto alcune parti beh non l'hai già fatto io ho visto solo all'inizio lui ah perché io ho visto alcune parti so raga ma che devo fare? ma non posso andare avanti ma che devo fare? non lo so perché aspetta ma c'è devo tirare ste roberts si devo tirare ste roberts chi è? ciao nicolas e qua si sta tryardando duro ciao nicolas ti voglio bene mi dispi mi dispi ma ho capito ma perché a livello quando l'avevi iniziato oh a livello normale non era qui? no era così allora ah non ti ricorda di bene siamo contro l'omosabbia ragazzi contro l'omosabbia loris cos'hai riscattato? regalo nel libro assolutamente si loris certo 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 tanto quello lì mi faccio sempre il recap a fine live ottimo mi scrivo subito quindi siamo arrivati dentro il palazzo mi dispi mi dispi però non stiamo andando avanti bene non sei ancora neanche mai morto raga devo correre raga devo correre salta raga devo correre raga devo abbastarmi raga devo saltare devo saltare devo saltare questo è vero ma lo devo prendere aspetta aspetta devo fatto più ma c'è la quale sto io? via spiderman vuoi firmare ma si che chiede perché è tutto collegato è tutto collegato è tutto collegato lisa è per quello è tutto collegato comunque siamo all'inizio ragazzi poi vi ricordo che se volete poi rivedervi io l'ho registrato quant'altro lo caricaremo subito così almeno però potete vedere tutto dall'inizio cos'è chi sta chiamando mentre siamo nel bordello cosi chi parla è un presidente ma c'è il giù presidente gli studenti no e no il presidente su instagram siamo sempre good game raga potete finire potete finire io non vi voglio bene potete finire mamma un bel pochino ma cosa è stato niente sto solo ma ma che figo che cosa un pochino passivo ha più sbloccato le zande trovo un pochetto ma rischiamo di avere l'anze abbiamo sbloccato le zande già con abilità perché che cosa si 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 sente la del gioco c'è a ricordare che sono robbie ha comunque sbloccato le zande guardate oh no sarò espulso tu hai solo saltato una lezione io ho abbandonato i miei studenti durante un'emergenza si sei fregato guarda le due azioni guarda che si deve è vita non mi manca ho sempre odiato quel nome perché scusa lo so che ce l'hai con me non ha niente a che vedere con te lasciami stare voglio aiutarti ma prima devo farti male faccio il dialogo? no non era contento di rivederti non è un tipo nostalgico chi tenta di fermarmi non morirà vediamo se c'è ancora l'invisibilità o se c'è ancora ok ora siamo di nuovo quanto è questo? non è un po' di sei bretto schifato becati questa becati questa scurrivo lo canta Sandman no cosi? no 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 Il Sandman no Ma contro la sabbia Avrebbe senso Raga lì se vuoi tirare un coltello contro la sabbia Pensate Eeeh Eh chi ce l'ha? Eh come fa ad averci la scusa? Non puoi averci la scusa adesso Raga mi sto tirando boh C'è il contatore killer C'è il contatore da quando siamo live C'è da quanto abbiamo iniziato Spider-Man Abbiamo 25 ore Siamo 11 minuti Per ora No guarda dove mi ha tirato Guarda dove mi ha tirato Addirittura E fermati No adesso si non c'è con la fiorta raga C'è l'anchiato con la fiorta Non possiamo fissare i messaggi Non ti libererai di me Non ti libererai di me Non attacca anche aiutarmi Raga adesso io devo tirare la bomba E' pazzesco Raga ma tra un po' l'ho abbassato Ci vado a finire Raga ma tra un po' l'ho abbassato Quello da guarda sopra Credo che adesso lo faccio Ma non ti ancora toccato però ora La lezione ci siamo comportati In modo strano Quello è quello spettacolo Stagni le previsioni del tempo Spider-Man Oggi previsti appostanti rovesci Ma perché tu non sei tanto più caro Ciao sono stupisante Ciao Ma io dove ti vado questo po' Ehi Oh no Cioè partiamo di 40.000 litri Ok grazie Genki Non dovevate venire qui ragni Pensi ancora che l'abbiamo messo nel sacco C'ha un'altra moda Non c'è per PS4 Ragazzi no Sta giocando Vabbè questo è più Il servatoio Spiderman Ovviamente cerchiamo di farli vivere anche un po' Volevo solo una vita normale Come chiunque altro Non è questo il modo Marco Per una come me Non c'è altro modo Ora stiamo esagerando Che è successo? Che è successo? Che è successo? Che è successo? E' Marco E' Serber Si Ma hai chiesto Marco E' Marco Marco Serbine Nello Spiderman Minds Morales c'era? No Non c'è mai stato solo Marco Infatti no Ah neanche duro Va bene No però Serber No ma questi sono morti E' certo ci hai buttato l'acqua Dove sei Pit Resta dentro Ok ci siamo Capito Capito Non serve quel servatoio d'acqua Altrimenti No Ma chi mi ha dato la volta? Ah vabbè Ah ma l'ha fatta apposta il gioco Per Continuo così mai Per fare sta roba della bar Per farmi Ah ok Quindi siamo finiti sotto le macerie Raga ma io sparo Volevo solo una vita normale Non è troppo tardi Ma è spiderman 2 Si esattamente lui Stiamo facendo una Non è una speedrun in realtà Oh ciavolo Eh poco Però non è proprio un diavolo Sono frasi Che dice Da preso male Siamo perfettamente all'inizio Quindi Massimo si può usare un po' La vostra voce Sì quando parliamo Però se vedete qualcosa che mi torna con l'audio Dite No Di base quando ci sono i dialoghi Cerchiamo di abbassarla Così vi godete un attimino No il tutto Mentre invece Ficchiamo la mazzata Ma Hai visto solo il trigger e basta Ma tu non sei niente Perché non ho neanche fatto lo spider man Certo cosa si capisco Anche' io non ho L'abbiamo a tale D'è nessuno Guarda una persona Canto Cosa dire Cosa dire Cosa vuoi dire Cosa vuoi dire Si Concentrati sul gioia Non ci perdiamo Non ci perdiamo Perché ci perdiamo Allora adesso Siamo ancora contro se Non abbiamo ancora sconfitto Giusto gabrie E diciamo che siamo in zona E' ancora un po' tutorial Siamo ancora un po' in tutorial Diciamo Ah tiro così le mazzate Dentro la casa Tu qualche anno fai hai fatto Spider-Man 1 Noi no Io ho finito solo lui Ma tu non sei finito Secondo me della vita Ok adesso siamo al primo boss C'è proprio l'inizio del gioco Ma riso ma Ma tu Papi l'ho finito il primo L'ho finito il primo L'ho finito papi il primo L'ho finito il primo E diamogli dovere invece E' fatta No Abbiamo sconfitto Usa i nuovi giocattoli L'ultimo aggiornamento della tuta Non era stabile ma Ah Capito Abbiamo sconfitto Ti avrei tirato a te La papi è il ruolo di 4 Questo è la Lo fanno vedere subito Che è la cosa nuova di Spider-Man 2 Non è ancora finita No Dei nuovi ali E ma comunque Anche abbiamo ancora sconfitto Sotto a quella sabbia Sì fatti che era anche lo Spider-Man con le ali Mi servei subito Miles E dove sono? Lo vedo Sono dietro Alla be' fatti le Spider-Man 2 Grande Robby E allora se non vuoi spoilerartelo Vabbè che siamo all'inizio Secondo noi sì scotch Io comunque infatti Ero proprio curioso di vederlo Di vederlo Oh vabbè Visto che ho tanto tempo di giocare Non ce l'ho Me lo guardo Io c'ho bello Che 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 c'ho bello Miles L'unico e il solo Hai qualche idea? Sì Comincia la lezione In classe La tempesta di Marco Sta generando molta elettricità Che succede alla tensione superficiale Allora Ciao Kex Sì Oh mi sa dico che ci sono le Che c'ho bello Che c'ho bello E come lei Ma Se si truccavano il mondo Ma Che c'hanno 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 Raga l'ho tagliato in 2 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 Raga l'ho tagliato in 3 Raga l'ho tagliato in 3 Raga l'ho tagliato in 3 Che cosa? Sei mesi fa Ah qua c'è un dialogone vero? Ci dovrebbe essere un dialogo Ho trovato del sangue No ho trovato del sangue No ragazzi ha un coltello Mi sa che qua c'è un coltello Ma questa qua è grave No proprio non vedo niente Oh cacchio che grave Oh cacchio che grave Sono stato la tua ombra per ore E tu non hai notato nulla Patetica Ma è meo Ma è meo Sì Sì Ho chiesto un digno rivale E questo è ciò che mi portate Ma c'è successo una cosa su Twitch Signore E se provassimo a cambiare terreno di caccia Ah ecco infatti Alex Ma sono la doppia voce Ma sei pazza Ma infatti Accendete i fuochi Inizia la grande caccia E' ufficialmente iniziato per noi Spider-Man 2 Perché quello che c'è stato prima Allora 25 minuti di prologo Praticamente un po' di tutorial Ok Allora dobbiamo ringraziare Alex Fa e me Usa Aspetta che devo abbassare qua Perché se no Quasi L'app è andata Pete riesci a vedere Dammi un attimo Miles Ci penso io E' tutto ok Sì anche qui non va Ehi Genki Lo so lo so La rete di telecomunicazioni non ha retto Cosa succede alle richieste inviate? Restano in coda ma Un attimo Forse ho un'idea Fai in fretta Prima che l'app andasse offline Ok ci rischiamo Sono dei dialoghi Allora come avete visto Se abbiamo fatto La prima parte Che è Sandman Per esempio Un prologo Una sorta di mezzo tutorial Adesso andiamo avanti Sono passati 25 minuti Dobbiamo ringraziare Tantissimo Alex Perché ha fatto l'abbonamento Con Prime Grazie mille per il supporto Alex Anche qua Il nuovo regalino Giacomo Gio Il donazione punto Grazie mille ragazzi Grazie 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 Ok adesso siamo sistemando I problemi che ha creato Ok Grazie mille Esattamente Il capo serve una mano Quindi ho posto una volta Iutici cittadini di grande difficoltà Mi ha chiamato la centrale Ma la linea è saltata Dobbiamo subito portare i soccorsi Subito capo Rimuovere l'ostacolo Dove è rimuovere l'ostacolo No è l'L1 L1 R1 Adesso devo tirare Più no? Più un po' 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 un video per te ricerche sull'ambiente per una strada di lanciadroni sarebbe sensori dal da qua e questa start up ci ha autorizzato poi ho parlato con il grande tempo in gamba non vedeva l'ora di aiutare mai un tasto aggiungi il tetto credo un passo alla volta a triangolo certo ma si devi creare una cosa alla svelta ci ho inviato il progetto sta inviando un progetto per fare la ce li ho sembrerebbe un drone è un po di noi non spiamo la gente o no 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 segue solamente i new york esi che inviano messaggi a tante il software li manda a questi droni che io chiamo assistenti meccanici computerizzati a m co ho appena creato un amico esatto in seconda me gli ero un portetto ok ora come lo facciamo volare ci sono molte interferenze quindi cerca di seguire il percorso indicato sul visore io provo a potenziare il segnale ok 3.000 metri ok adesso abbiamo il gadget il gadget questo non lo so no è il drone di casa la rete è tornata attiva io ho una notifica aiutata il drone a casa che non te ne è mai i rapporti dovrebbero arrivare a momenti funziona ti muovo in pista e quindi abbiamo riattivato la connessione raga ma non mi dire ci sono dei cattivi ok ma non mi dire 1 2 ok level up raga ma non mi dire ci sono dei cattivi ragazzi no 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 ti ho c'è due sistemi uno è una scheda di acquisizione l'altro te lo faccio guarda un video pronto nei prossimi giorni lo vedi così più facile no allora che abilità ti sei dato Gabri? perchè dove compri le robe? che abilità ti stai dando? no ma perchè non mi ha preso il lacchio a fiondo che volevo questo? eh? volevo il lacchio a fiondo adesso mi servirei e così hai preso? è arrivato un rapporto ma questo è una secondaria giusto? vieni indietro forza così sì le missioni non ci stiamo su fermare abbiamo tutto il tempo gli sbirri sono distratti dalla sabbia ripuliamo questo posto dai carichiamo ok siamo ripartiti adesso vabbè nuovo sempre nuovo tutorial assoluto che riguarda gli attacchi per il giocatore di spiderman però giustamente si può sapere ti ha deciso di creare un poligono qui e di essere a buttare anche da zero mi manca mezz'ora no in realtà ce ne mancano ancora 24 e mezza cioè noi di oggi non facciamo la live di 24 ore ovviamente però tutte le volte che poi ripartiamo a toccare a spiderman sarà il timer che si assuma sempre tutto il video finale avrà 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore e poi perché se lo fosse perso su youtube e facciamo che non puoi prenderti troppo con calma secondo me anche perché qualche volta magari a livello massimo non so se non c'è mai sempre il video sportivo eh qua cavolo erano pericoli molto bene attrofittare della sabbia che blocca la città ok mi metti il puntino ne arrivano altri ne arrivano altri ne arrivano altri accogliamoli a topi il stile spy vai con gli altri gadget decollo ah no ok gadget gadget raga decollo eh quale sceglie pericoli 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 se non c'è ma comunque segnalatelo perché sei una seccatura si è uno dei miei superpoteri grande fra ma ah ah ecco i papi devono verticale 3 2 1 raga via ok ci disegno quindi abbassiamo si se comunque se vedete qualcosa che non vi torna irritateci perché per noi fare questo tipo di cose con il gioco eccetera magari di fatti chi è che scrive qua giovanni dice son passato di toccatwitch perché si vede meglio eh sì infatti in teoria dovrebbe essere eh eh su cui ci abbiamo la qualità massima su di toccatwitch in verticale quindi vabbè a voi lasciate di dove stare siamo ancora all'inizio 32 minuti devo dire che a quasi un'ora speravo di essere un po' più alto ma poi in effetti non stai ma non so però in effetti non stai cioè non siamo ancora mai morti siamo andavanti bene Gabriele è abbastanza schillato siamo a 33 minuti eh non so 25 ore mi sa che qua non facciamo troppe secondaria ok sinistra scoria sinistra per cos'è sta è un'app che ti fa cambiare spoiler ti fa tutto ok certo che però sto aggiornamento raga ma che c'hanno la wifi dei poveri la New York qua va che roba apriamo la rete vabbè ora sento mais oh papi sto passando a mais eh passiamo a mais passiamo a mais mais quindi storia di mais ehi di là non riusciva a respirare non riuscivi? ci sei? si dimmi raggiungi il tetto di quel palazzo il mais è già finito allora no Shano sono i minuti quelli abbiamo iniziato stasera ragazzi abbiamo sblocato qualcosa abilità abbassa un po' di più abilità più di 30? eh si ok vabbè poi tanto me la riascolto spero di non aver fatto una cacchetta no una cacchetta ma ci aggiusteremo una cacchetta ma devi sbloccare di nuovo qualcosa? una cacchetta no ma perché continui a toccare? ok dopo perché stavo portando queste cose ehi no dai fanno almeno quello il trasporto si dai Gabriele dai trasporto ma ci vuole il video dai ma si dai trasporto trasporto vabbè vediamo se non perdi più sono riuscito a finire quella giornata grazie mille Giacomo grazie Gio grazie Inlol per i regali su TikTok grazie mille ragazzi e anche i nuovi polver Lupino Angro Gio Shad forza Lisa dai Gabriele a quest'ora è arrivato scusa mi spenderanno quasi non è una vera professione faccio complimenti a noi per le sue skill e giovanni su su spider vena abbastanza bravo ammetto sì ma ragazzi ma stavo ora c'è Lisa che come vedete la differenza no tipo qualcuno che ha giocato e qualcuno che non ha giocato e ci sta ci sta raga ma il telefono qua ammazza ragazzi se non ste caldi e comunque mamma mia cosa che fissa che avete mamma mia cosa ah ce l'hanno ce l'hanno cosa con sto instagram dai Lisa però cioè se non ha famo dobbiamo dobbiamo andare se arriviamo a mille passi non lo dico oh ma me lo dai finalmente guarda dai torniamo torniamo perché sono effettivamente un gioco devi 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 guarda 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 vediamo se ci sono vediamo se ci sono vediamo se ci sono cosa sono queste eh come ho fatto guarda ci sono ci sono eh devi prendere e lanciare no secondo me troppo che non giochi no direi che si no perché prima le vicine con la x adesso no ma cosa con la x ma con la x ok vabbè vabbè dai siamo arrivati siamo arrivati siamo arrivati dobbiamo trovare il lancio droni dobbiamo trovare il lancio droni dobbiamo trovare il lancio droni stiamo giocando la ps5 si ragazzi c'è solo per ps5 spiderman 2 eh si eh si buonasera Shad di nuovo lancio droni esatto ok secondo lancio droni quindi per ripristinare la connessione giustamente ho capito 36 minuti ragazzi 36 minuti la vedo dura fa le 25 però vediamo vediamo aereo mobile di collegamento d'ora beh con lisa l'ho sprecato 6 minuti in quei minuti credo che sia ancora listino ragazzi credo che sia ancora listino sapete 80 se non sbaglio no io non l'ho visto ancora in promo un genio che è chi ma dai oh figo vado il percorso con la massima ok ok e avremo il segnale necessario giusto jo l'ho rivelato penso che Gabriele voleva far superare come dovremmo far superare perché? a caso? no allora aspetta che devo essere un po' qua ok allora torniamo come eravamo prima io direi di fare vabbè io farei una principale andiamo su una secondaria così veloce questo è una secondaria sicura eh sì sono crimini che ci sono da città vabbè ma perché papi non si può se mi fai andare solo lì all'inizio non è che si può fare tutto quello che vuoi che fai? che ne so io la prima volta che lo vedo sai io devo vedere effettivamente si ho capito ti fa vedere raga guardate mi sono messo in visibile aiuto e bacio e facciamoci fuori tutti facciamoci fuori tutti raga dove va? a dare una mano a salvare i cittadini ma che ne sono altri? di cattivi? a oggi finiti tutti? si sono in centro ad aiutare gloria colpista hai parlato col sinistro? che bello oh si ma lo so già che sto rosso qua e cos'è quello? la scatata perfetta? spiegaci qualcosa anche a noi comuni mortali che stiamo vedendo e quella roba rossa sai cos'è? è quando ti dicono a sparare che capisci almeno chi rispare ah ho capito è il senso il senso del raga giusto? ciao amico ma questo qua non è molto uguale no è lì sta lì sta la cattiva oh finalmente che esce il gigante il gigante porciutto il gigante porciutto che guarda adesso si ma lo so che sta messo guarda ecco la cosa rossa giustamente come cosa vuol dire del l1 no? non lo so mai a quello no? ok vai la ulti che ulti? rinunciaci riferisco questo genere di fisica ma che qualche antigate ragazzi stasera ma lo finiscono al 100% ci proviamo un attimo avevo 25 ore adesso siamo a 40 minuti non tutto di oggi eh non tutto di oggi ogni volta che ci vedete in live su spider vedrete il conteggio qua sotto che cambia aumenta dobbiamo sbattire speriamo di non morire anche tante volte però però per ora sta andando tutto fiscio questa è una sorta di secondaria perché non è una primaria però adesso siamo quasi cioè non è ancora neanche finito praticamente tutto il tutorial ecco diciamo così ecco esatto oh finalmente abbiamo messo trappola del cristallo e andiamo si va veloce con le ali grazie cosa sei scopita lisa che brutto si ciao massimo c'è spider 22 per il pasticcio 4 no ragazzi mi dispiace no 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 bello scopo cosa gabry curati però ah si 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 ho fatto no ho capito capito ma come vedete ma lui va è un treno vedremo ma se tu eri lì eri lì a 5 minuti manco manco ti muovevi lisa tu magari sei in treno guarda vedremo un po' più la ragazza ma cosa ma cosa dici se io ci sono arrivato in 2 secondi quindi c'è arrivato in 2 secondi grazie mille giacomo per le due rose poi vedi i cabri fa tutto nel cinzia assolutamente adesso è l'inizio voglio vederlo poi un pochettino dopo eh tra l'altro peccato che la prima run non si possa fare a livello ancora più difficile perchè sarebbe stato carino però avremmo dovuto fare tutta una prima run non escludiamo magari di fare una run a livello ultra mega difficile dopo però iniziamo a farne una e vediamo se ci siamo in 25 ore per ora non lo so ho sentito il gioco guarda come fa male dai miei 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 si lo so si ma scherzando scherzando per far vedere tutte le abilità questa è nuova eh interessante ok ho parlato con i medici interessante ti manca platinano ma la vedi difficile? no dai i spiderman di solito sono fattivi di platino cioè va bene in effetti no io non ce l'ho fatta no troppo sbatti tu hai finito le missioni principali in undici ore Mirko pulca così poco ok massimo se studiamo alla play posso aggiungere le scritte se lo fai direttamente da play no non puoi farlo orsi devi vedere che devo farlo devi farlo con un altro sistema no raga questo me lo spacco che figo eh bello che non servono i cristalli capi? niente ah so dei ricordi di Marco ah che cazzo ah che cazzo no dove ti poti fare fino adesso non fare ma sembra continuare un frammento da prissima c'erano non avere fatti no no una cacchilare bene un tono ma io devo spaccare tu ma anche io riesco a chillare e vedo che pensate raga ma che bendete ma che bendete io vorrei fare passapia Chris dice che non devi inclinarla se no non cazzo ok il busto cos'è ah si si ok ho capito guardate come avevo messo adesso il pod a caso quindi Mirko dice non è così lunga adesso vediamo noi in realtà sono curiosi lo facciamo tutto in un colpo? no non in questa live ragazzi non in questa live ma vogliamo provare a vedere se riusciamo a farci le 25 ore a livello mi sentiro mi sentiro ma ti ho perduto che lo ho sentito si lo ho fatto apposta perchè tu non mi puoi fare niente eh tanto che... non so ucciderli io questo no è come tutto il gioco prima cosa mi muori seconda cosa si ma qua siamo sempre ancora con una sorta di secondaria ma perché dobbiamo seguire ovviamente la parte non possiamo andare insomma esatto spiega un po le nostre siamo ancora in tutorial c'è 3 44 minuti di tutorial ancora c'è grande agitazione nell'area stasera su tiktok oggi no facendo solo spider man loris facciamo ancora credo mezz'oretta e poi adesso forse che abbiamo settato tutto non ci dovremmo più mettere un'ora e mezza per iniziare la live ti devi prendere un nuovo gadget ma prima non hai ancora comprato nulla gabry tra l'altro stai andando avanti così senza gadget togliamo la macchina che dove fanno ritoglialo ma perchè non lo ha fatto io ero in quanto distante comunque si sente ne ha messo veramente una bordata di sabbia ma secondo te è grande grande meno 70 metri anche di tv attenzione boh dialogo 100 metri devo dirlo a spider man penso se dobbiamo salvarlo sto barbacani va bene signor jameson la porto subito il nostro barbacani devo portare gentilmente devi proprio vedere chi era il pip della limusine non si è impossibile ma perchè dovevo fare un barbacani signor jameson sono spider man mi sente? perchè vuole un barbacani? non lo so sono due tu ah è l'altro spider man ok si ho le ali e lui vuole usare le ali no perchè non usare le ali? come fai a andare più veloci? eh no come fai a usare le ali? eh certo ci stai riportando a cosa? non lo so gabri ti chiedono come fai a non cadere comportati bene con i dottori non cadere mai boh non lo so è caduto ah come fa a non cadere lui? eh non lo so lui non lo so già il fatto che lo stiamo portando a spalle minacce voi due siete una minaccia vai col dialogo ma jj jameson non vi molla capito? non vado da nessuna parte ehi dove andiamo? dove stiamo andando? signor parker dove si trova? eh presidente evans si si sono proprio peter parker mi scusi c'è stata un'emergenza e... ma arrivo subito giuro se non è qui tra dieci secondi oh no ah no ah 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 non ci credo che l'ho fatto ah dov'è il signor Sumida? oh lui se ne è andato ha parlato ha parlato di di vacanze cosa? è fantastico ehi e mentre non c'eri ho scoperto che... che mi hanno dato la borsa di studio rende sul serio? si coso? vai forte eh gran giorno per tutti peccato che non c'ero oh no non posso guardare e... non posso non guardare hmm preside evans si? abbiamo deciso di arrivare lo so che sembra imperdonabile sembra e... e mi dispiace è così a lei sembra no lo so lo so lo so è che... tutto questo è ridicolo è l'ultima cosa che avrei voluto e non si ripeterà ha avuto abbastanza no ecco se solo le... basta con le stesse il suo lavoro è quello di proteggere gli studenti non di abbandonarli è licenziato che disastro è preso male? bello se sei spider-man deve essere dura tenersi un lavoro ma di certo tu ce la farai ok siamo tornati allora si stavo io cercando di capire un mini riassunto della questione praticamente hanno licenziato Peter ah perchè è andato a quello che serve perchè mi sta meglio raga ma io ho proprio le macchine ho fatto prima dovevo fare una lezione finché ora siamo in live è verso undici e mezza snacchiamo cos'è riscattato il mio messaggio? domani cosa giochiamo a Loris? eh bella domanda non lo so perchè la speedrun diciamo di spider non volevamo un po' concluderla quindi credo che andremo un po' avanti cioè cercheremo di farne un pelino penso di sapere dovete farcire questo grazie mais adesso cosa dobbiamo fare adesso dobbiamo fare una foto un'altra roba un'altra roba un'altra roba che è una roba che è fortissima contro i nemichi perchè ti arriva addosso ai nemichi ti arriva addosso ai nemichi no bene siamo a 50 minuti ragazzi ah mi fai vedere un salvataggio che dovrebbe darci una sorta di mezza percentuale così vediamo quanto ci stiamo dentro però perdiamo tempo sì ma un secondo vabbè dai allora giusto per avere un'idea vabbè lo facciamo verso l'ora dai verso l'ora vediamo come siamo messi qualcuno di voi sostiene che ce l'ha fatto in dodici ore quindi insomma vabbè vabbè raga forse devo scattare una foto a questi tipi è probabile devo scattare una foto si perchè ti hai scritto scattare una foto mostami scatto una foto vai e scattiamo questa foto e toghi una foto e l'abbiamo fatta raga voi max e crei il tuo salvataggio ti dà la percentuale missione esatto esatto non ci si si me lo ricordo ma giustante gaberici perdiamo tempo raga ma io scusami vabbè 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 perché sono stato speso guarda non lo so l'ha fatto stream elements e probabilmente perché è scritto col cazzo non lo so devo scappare in riunione se catturi qualche altro angolo penso grazie ok adesso siamo a cosa è successo qua capisco se mi sono perso un attimo che sto guardando se tutto funzionava ci sono ah sono sti livelli papi sono sti livelli delle missioni secondarie ma qua non puoi ancora sboccarli immagino scusa no? ah posso adesso devo stare fermo qua perchè non mi fa il puttino vado a tutti i miei amici e me lo sto dentro vabbè c'è la missione primaria dove c'è appunto rosso no? vado prima faccio prima a fare questo vuoi fare una foto? ah lì non perdiamo tempo vado prima va bene facciamo una scusa ho perso il treno ma perfetta ma la perfetta che ho detto perfetta 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 eh perfetta bellissima ma l'unica cosa che dovrei fare allora chi è questo simpatico notifica aspettate grazie mille ciccio per la rosa alessandro per i cinque tinidini dozzo per due rose me per tre rose dieco per la rosa marchio per un sacco di regalini come sono stelline varie albin c'è la rosa giacomo due rose regalino in lunga grazie per il supporto ragazzi chiedatevi ho fatto prima a fare la foto non mi dire ma raga ma poi ci sono due spydi ci sono due spydi gatti non mi dire erano due spydi gatti ma hai fatto un'altra foto? si devo ammazzare marco non ho dei ricordi ma no guardate il loro gatico preso questi qua si ricaricano adesso i gatti non sono ho capito ma in realtà anche prima si ricaricavano si dovevi prenderli si dovevi aspettare il tempo non è che si ricaricano ma è un incubo ma è un incubo è un incubo eh c'hai ragione Robby ehm forse stasera non abbiamo visto una grande moderazione eh raga sentite sono dei no si ci sono ok ok ora esaminiamo il cristallo gauri grazie grazie nuscia dai un'occhiata tu grazie grazie ma non devi preoccuparti si 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 mi stai occupando gauri però dovremmo fare almeno una prima rietta adesso sbaglio qua vuoi fare una secondaria? ma cosa è sta roba? ah non lo so se non so super lancio a fionda prrrrrr di do 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 yes 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 ma vai tutto da un'altra parte che schifiri dopo si è arrivato il momento ti sei allontanato un sacco o sbaglio? vabbè ah lì c'è un crimine immagino non l'ho appunto escravato in rossa ma no ma no ma i crimini i crimini quelli li sono terciari come cacchio si dice si esatto ancora una esatto ancora un'altra roba si una sorta di eh si raga guardate cosa ho scoperto un'altra volta brrrrrrr scopo di do 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 poi si nuota anche più monocchio ma figa quella cosa si visto? prima si nuotava lentissimo prima si nuotava lentissimo prima si nuotava adesso invece sei rochissimo ciao cosa? raga adesso devo ritransformare nuovo costume credo ah ecco stili di costumi vediamo quali costumi abbiamo ah vabbè ci sono anche i robini gli stili no chi lo fa capire? chi lo fa capire? beh cambiamolo un po' no? c'è che bello sì ma che me lo vorrei che io ti faccio questo ma io tanto mi voglio comprare questo ma allora mi compro questo questo è classico scofa schifo hai preso scarlet? hai preso scarlet? hai disoferto il naso Gabri? ma non mi devo soffrire il naso per soltare le acque le acque le acque quindi Gabri ah infatti dico un po' ti sei messo questo ci sta le abbiamo viste anche tutti no? poi quando ne sbotchiamo qualcuno ci sta ok ehi le metri va con le ali in due metri ah queste sono le correnti quindi fanno andare più veloce ah guarda qua in questa questa corrente si va come dei treni ma quanto vai veloce adesso? è stato un primo giorno impegnativo domani andrà meglio vedrai papi? guarda di questo sono sicuro a dopo che cosa guardo? la faccia la cenda raga che sono già arrivato capri la rivoluzione di spider ah beh certo credo che sia andato molto più dialoghino? un dialoghino Sandman ha fatto davvero un casino cominci a prenderci la mano eh? beh per la città è comoda però non sono convinta che mi piaccia hai convinto me? cosa c'è? mi hanno licenziato mi spiace eri così emozionato per quel lavoro lo so avevo già programmato tutto il semestre avremmo costruito elicotteri alimentati a patate mi dispiace tanto almeno presto potremo fare i disoccupati insieme vuoi dire che Jonah si è già scatenato? più o meno inizia a fare discorsi sulla meritocrazia radicale addirittura e che vuol dire? vuol dire che chi non riuscirà ad avere un pezzo da prima pagina se ne va a casa oh beh allora non rischi niente perché sei la cronista migliore cos'hai lì? libri sulla simcaria invenduti non so più dove metterli ma hai avuto grandi recensioni e ho venduto solo quattordici copie la simcaria non interessa a nessuno il bugle detta legge in città li posso fare la differenza ma se mi licenziano non so cosa fare davvero per trovare la tua strada ti serve il bugle? ho provato a fare qualcosa dall'esterno e solo quattordici copie no devo cambiare le cose dall'interno non ho avuto tempo per pulire stanza sul retro? già intanto metto un po' in ordine mei ha ipotecato la casa per tenere a galla il fist ok ci siamo amici scusate ma si è spenta la luce sono anche alle 11 eh? eh sì adesso infatti 20 non ti stacchiamo siamo quasi a un'ora non trovo mai il tempo raga devo riordinare cosa no non è che non si sente leo quando ci sono i dialoghi ci spegniamo così vi potete vedere il gioco se no cioè almeno volevamo farla così ciao Ale ben ritrovato grazie mille Ale per le due rose Riccardo per la rosa Rumens per la rosa Otta per i gg Ciccio per la rosa e Alessandro per i cinque qualcosa non posso un dinosaurio anche Fogo per il follow su Twitch grazie per la rosa grazie per la rosa anche Thomas Giacomo Giulia benvenuto su Twitch raga ma perché non mi fa prendere sta roba? che è sporchiccia ah non ti metto allora adesso cosa è successo Gabriele prima cosa è successo? c'è un micro riassunto per chi si è collegato su adesso forse ho capito un po' siamo con Peter forse è un Gia si è arrabbiata perché perché Spiderman non ha voluto vedi che tutto 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 non pulito era sporco ok vorrei donarle in beneficenza vabbè pure l'avevo caricata cosa è il nostro punto siamo a casa di a miei giusto ok spero di non aver spostato niente ma domani giochiamo e se ce lo facciamo si Christian purtroppo stiamo cercando di fare il possibile però l'idea è quella di provare ad andare avanti adesso siamo un'ora facciamo ancora una ventina di minuti di mezz'oretta e poi vediamo diamo un'occhiata ah quindi adesso siamo a casa di ma casa sua casa sua casa loro perfetto però no almeno che c'è chi c'è su Twitch ciao Kevin massimo quindi del vostro quarto Claudio me lo sapete qualcosa posso crearlo che era quel foro no loris abbiamo già tre dire che vanno bene ma c'è un buco secondo me potevi andare a fare un po' di buco ma c'è un buco secondo me potevi andare a fare un po' di buco Peter ecco mi sembrava pensavo credevo che ci fosse un topo nel muro c'è qualcosa che non va? no stavo soltanto ciao Francesco benvenuto a Twitch alla tua età ero a capo del club di dialettica capitana della squadra di calcio nonché secondo violino dell'orchestra ogni anno raggiungevo sempre un nuovo traguardo ma quando decisi di puntare a essere anche la prima della classe sono crollata dalle celleri in qualcosa non sapevo più fare niente così ho rallentato benvenuto a Twitch Filo grazie per il follow è un processo non un traguardo ci sto ancora lavorando avanti su coraggio forse Mai aveva ragione non posso fare tutto adesso adesso non un buccio vai no puoi parlare raga vi spiego un piccolo resunto allora che praticamente nei vecchi tempi spider-man che era dentro dentro la sua casa e visto che lui era sempre spider-man anche nei vecchi tempi ehm io stavo l'insultando sempre jameson credo perché gli di chi è vabbè io non punto niente no infatti gatti non si capito una mazza poi vabbè allora non spiego tanto da non so spiegare ok dobbiamo ancora skillarci ci devo spiegare le storie no è l'amico esatto mi sei mancato mi sei mancato mi sei mancato anche tu ah ho capito grazie Gio per il suggerimento ho fatto subito hai visto? perché stavate insultando poi ha detto perché c'era il topo ah guarda non ho capito ah ma c'è un dialogo aspetta si è in remissione ma Harry questo è non posso crederci stai alla grande puoi dirlo forte no devo tornare al lavoro cena domani è venuto tutto di script Connie Island come ai vecchi tempi andata questa è nuova è un'abilità che ha sbloccato nel suo viaggio in similiaria scusa se sono venuto senza avvertire ma cosa? no ma figurati vuoi entrare? in realtà speravo di fare un giro insieme se hai tempo certo non posso credere che la scassomobile funzioni ancora ho pensato di stupirti con questa oh vai è la mia vecchia bicicletta no l'ho trovata su internet però è quasi identica no? si ha addirittura gli stessi adesivi sicuro che non sia la mia bici sei pronto? si dove andiamo? lo vedrai forza stammi dietro sei sicuro di farcela? rieccoci stiamo cercando di capire il nostro riassunto interno perché io seguendo tutta la questione dei volumi mi mi perdo magari un po' di storia che hai fatto di recente spiderman 1 2 2 e 2 ragazzi siamo entri di entrare descrizione abbiamo scritto su tiktok abbiamo scritto spiderman non speciale beh dai chiedo raga non lo capite dalla grado beh si in effetti è ragione però si non è detto che allora posso chiedere si no ci può stare no dovevamo scrivere spiderman mi ha dispiaciuto prossima volta intanto abbiamo ancora 24 ore papi ha ria fatto cadere una ha fatto l'incidente è molto bello si sta molto ha ria fatto l'incidente ha immessito una signora adesso? veramente? anche io ne voglio immessire una no no raga portate no raga questa è un'altra pluff no è invisibile mi vai a unire ma siamo alla mitta ho messo il chicchione ma è lì che stiamo andando non mi dico 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 quanto stiamo ancora? 11 e mezza circa stacchiamo grazie oh dialogo perché siamo qui? noi odiavamo il liceo ti ricordi di quando Flash e i suoi amici mi hanno chiesto? l'hanno preso e rotto il portatile perdemmo la presentazione per il concorso dei giovani imprenditori ci avevamo lavorato per mesi e la finale era il giorno dopo avevo un backup su una usb ma era nel tuo armadietto avevamo chiamato la scuola per poter entrare ma dopo ore ci dissero di no eravamo così disperati che abbiamo provato ad aprire tutte le porte della scuola per poi arrivare a questa aspetta cosa vuoi l'avevamo forzata si va? non c'è nessuno andiamo sei sicuro che la chiavetta sia lì? quasi ok ci ritiamo bravo è che ha finito oggi il gioco ha finito spiderman 2 gioco bellissimo se si non si sente no non è che non si sente ragazzi quando ci sono i dialoghi ci mutiamo eh ci devono un dialogo così vi seguite tutta la storia è baseball league che ci fa qui di venerdì sera? e ascoltare la partita? l'PI della squadra continua a giocare come stai facendo ragazzo mio e vedrai che diventerai una leggenda corriamo fin là aspetta ci vedremo questo ragazzo ha la stoppa del campione sono sicuro che i tifosi cerca di fare rumore ci risiamo allora vediamo uno spoiler no dai gott non ti fai mutare su se tu vuoi spoilerare no ci c'è forse no sono un criminale 593 benvenuto su ah no effetti benvenuto da ora sennò la nostra presentazione la prova fantastica 593 benvenuto su Twitch grazie per il follow dicevo tra l'altro ad Alex a parte ancora ringraziarlo per l'abbonamento con il Prime caro Alex ti ricordo che sempre sul nostro Discord c'è una sezione dedicata a te che sei abbonato e c'è un giveaway in corso su Brawl Stars dagli un'occhiata adesso però torniamo su Spider-Man devi entrare su Discord e collegare il tuo account di Twitch ma comunque c'è un dialogo ehi chi c'è? siamo nei guai siamo nei guai maite no no le ho finite ci iniziamo no ragazzi non è disponibile per PS4 Spider-Man 2 purtroppo è un'esclusiva PS4 come mai sono un'oretta e mezzo di live beh sali cioè di solito facciamo anche solo un'ora in realtà oggi ci stiamo stiamo andando un po' oltre perché ci sono le vacanze eh o facciamo quello che possiamo quindi biblioteca laboratorio questa parte parecchio stealth si questa parte qua stealth eh non bisogna farsi beccati infatti con la capilla aperta così si facciamo da capo cosa vuoi? ma cosa vuoi? quella parte stealth falla provare lì su adesso poi ci ricordineremo su questa cosa poi non vuoi te lo ti ho detto te lo ti ho detto palestra ma ti ho già fatto? eh vabbè se lo ti ho fatto chissene non è che tanto poi ho detto che la devo fare io mica te buona ti ho fatto una stanza sono muti sempre le stesse domande raga fatti io non lo so ma c'è una roba così importante raga ma sto po' di fila vabbè dai andiamogli dietro x facciamo occhio ma ti puoi attaccare al muro? a chi è dov�- ok vabbè facile inizio no i mister quadri no non è bob benvenuto su Twitch adesso ci coordineremo un tante, ci coordineremo non voglio il canale a panico ma ci coordina adesso raga ricarica la mia tele so che la live non si chiama così raga ricarica la mia tele non posso dargli un altro nome ragazzi e spider me ne basta ce la teniamo così ma tanto ho visto che adesso lo sapete che spider è il mondo non è nessuno dialoghi ciao amico mio devo trovare il modo di aumentarne la capienza per non restare più asseguito ora da r in palestra un vecchio zaino non ricordavo fosse qui dovrei iniziare a segnarmeli non riesco a liberarmi di lui devo distrarlo se voglio uscire da qui bene allora abbiamo fatto il primo pezzo stiamo scappando da tutte le guardie che stiamo cercando di capire dove dobbiamo dirigerci grazie alle per i regalini grazie mille come sempre e le per la rosa riccardo rumens 8 17 11 ciccio alessandro grazie per i regali non c'è il puntatore non c'è il puntatore ok tornato lì in palestra sono arrivati in palestra ma da quanto stacchiamo facciamo fino all'1 e 30 di gioco l'1 e 3 l'1 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 l'2 l'3 l'3 l'1 l'2 l'3 l'4 Vabbi qua comunque eravamo Fai un rumore da un'altra parte dobbiamo distrarre, no? No, devi distrarre in qualche modo, vedi? E adesso che va a vedere quello, perfetto Via, eccolo qua, paf, e chi è questo? Ovviamente, dialoghino Che ricordi? È stato incredibile È rimasto tutto com'era, tranne le guardie che ci inseguono Quindi, andiamo a fare due tiri Sicuro di farcela? E tu piuttosto? Fatti sotto, chiacchierone Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso facciamo fare un pezzo alisa. Grazie, Nush, per la moderazione, ma questo lo blocchiamo direttamente. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Occhio, 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 la guardia. E non è stato da passare, non so come si fa. Ma se il popolo... Come si passa? Penso col certo, sì. Non ho idea, prova, 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 se Gabriele non ti aiuta, vediamo. Preccio di Torino. Grazie, Uzzo, per la risposta. Grazie, Pepe e Lucas, benvenuti su TikTok. Sì, sì, scotch, qua, su Twitch, sì, assolutamente, ma c'è proprio una differenza di quantità. C'è molta differenza. Mi facciamo farlo andare via sto tipo. Benvenuto, Lucas. Grazie per il follo su Twitch. Ho già controllato questo piano trapporte. Non la caccia ai fantasmi. No, aiutala. No. Aiutala un attimo. Poi le parti dopo le fai tu. Questa parte qua di stealth, gliela facciamo fare un po' all'insa. E' chissà perché. Vediamo se sei un video, non stiamo facendo. No, dai, che siamo a 1 ora e 19. Non possiamo perdere dei secondi qui. Se no, non ce la facciamo. God of War abbiamo giocato, non ancora Grande Escavatore, però quasi quasi. Lo recuperiamo. Magari vi facciamo un video e vediamo. Perché l'altra volta che avevamo chiesto di Spider-Man non c'aveva la terza di giocarlo. Quindi eccoci qua. Darmi. Ma mi puoi anche aiutare? Cioè, non lo so. Oh, gente, bravo. No, beh, facciamo... Eh, ma io non ho capito quello che si imparavano. Allora, dice di sparare i palloncini. Eh, lo so, non me l'ha fatto caso, però... Però c'è... Non so, no, no. Quando ci piace, sì, Rado, poi si inseriamo anche quello, prossimamente. Allora, dobbiamo trovare le chiavi all'armadietto, giusto? Ma lei è proprio stupida, c'è proprio stupida, c'è un po' più stupida, c'è un po' più lì, ma... Vabbè. Ciao. Che cos'è? Eh, dai. Prendilo? Oh, cavolo. Chi c'è? Niente male. È d'accordo anche lui. Oh, no. Corri. Ehi! Così ci farai arrestare. No, se non ci prende. Non è il tipo di nostalgia che mi piace. Hai ancora la chiavetta? Sì. Dobbiamo uscire da quelle porte. Dai, ci siamo. Aprite la polizia. L'ho chiamata io, siete nei guai adesso. Vai. Va. Trattieni lì solo un minuto. Ho un'idea. Che cosa dovrei fare? Vabbè, non farti prendere. Ma certo. Polizia, aprite! Ehi, ci ha chiamato lei? Già, sono qui da qualche parte. Ok. Voi due date un'occhiata. Noi parliamo con questo tipo. Devo isolare la guardia per recuperare la chiavetta. Sono qui da qualche parte. Mi stiamo cercando, ma serve una testimonianza. Ok, ci rischiamo. Ragazzi, mi pare che ci hanno beccato. Giusto? Cioè, un micro riassuntino. Siamo arrivati nella palestra. Adesso dobbiamo trovare, insomma... Eh, mezzo matto? No, non c'è. 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 Sono dei ragazzini. Ragazzini. Comunque tutti i giochi di spedere sono bene. Sono d'accordo, Bob. Assolutamente. Sono d'accordo. Beh, li hai visti con i tuoi occhi? Eh, non lo so. Eh, di fatti abbiamo i moderatori apposto. Ci sono dei rimbambiti. Perché non andate voglia a cercarli? Non si sente. Non è che non si sente, ma quando c'è dei dialoghi lo abbassiamo, perché così vi potete vedere la storia. Cioè, non ha senso che noi parliamo sopra. Cioè, almeno per come l'abbiamo impostata la live e anche la registrazione sarà così. Quando ci sono dei dialoghi cerchiamo di metterli tali per cui vi potete vedere Spider-Man. la sua completezza, diciamo. Per com'è. Ma io non me lo fa bene. Ah, ma devo distrarli. Spara sulle cose che ci sono nella strada per distrarli, dicono. Ma lo so. Ma quello che non lo sapevo. Eh, infatti, però, mi sapevo che non lo sapevi, esatto. Mi sembra che... Ma io vuole farei. Sì, per subito. Ok. Dovevo distrarle? Tu questo hai già fatto, Gabri? Sì, beh, ma Spider-Man ha giustito da parecchio, quindi magari molti voi l'hanno già finito. Difatti, se l'avete già giocato... Ma perché mi trema sta roba? Perché forse ti stanno vedendo. Ma dove stanno? Manuel, anche tu l'hai finito in 15 ore. Un altro in chat l'aveva scritto che l'ha finito in 12, se non sbaglio. Oh, ma perché... Noi abbiamo letto 25 tra primarie e secondarie, stiamo giocando a livello più difficile che c'è. Ma mi da fastidio, che... Tutto... Senti, tutto che trema. Eh, beh, per forza. C'è la situazione di suspense. Sì, ma... Devi distrarre le altre guardie. Sì, ma io ne so come si fa, ma non devo andare lì sopra. Dice che devi scoprire i palloncini verdi. Proprio quelli verdi lì sotto. Vediamo, no, non ti fa sparare quelli lì. Ok. Perfetto. Tutti quelli verdi. Voglio prendere la chiavetta lì. Sì, puoi farlo, un tt. Puoi farlo. Esattamente, puoi unire le due cose, come su tutte le piattaforme. Ora deve scendere, giusto mano. Dialoghino. Benvenuto a strada. Ce l'hai? La polizia! Non è la polizia. È mio padre. È mio padre. Papà, ti avrei chiamato una volta a casa. Tua madre. Che è successo? Peter. Puoi scusarci per un momento. Puoi scusarci per un'abile. Puoi scusarci per un'acebre. Potenzia per un' естеi, in un' Например. Depression-Una. Il l'accusa... It уч我不 markare. C'è un' December. Mi telepolic now. Ci è stato di evitare Eh, qua è un po' tristina. Ma ho bisogno di te, Pete. Wow, sai, non me l'aspettavo. Perché non vieni al laboratorio domani? Hai già un laboratorio. Ti presento le mie idee e magari ne discutiamo insieme. Ci stai? Ok. Pete, cureremo il mondo intero. Confermo, unità d'assalto K1 in arrivo. Rapporto! L'edificio e arena quasi completati. Ricognitori a rapporto. Sandman è fuggito. Impossibile ricatturarlo. Non era la preda giusta. Ricevuto. Attendiamo ordini, signore. Preparatevi per il trasferimento. E niente più errori. Il mio nome è Miles Morales. è più banale di così, si muore. Ehi Miles, hai da fare? Qualunque cosa sia, ci sono. Aiuto per una missione di scorta a Rapp. Benone! Dimmi tutto. Oh! Non guardarmi così, papà. È per staccare un attimo. Hola, amigo. Come vai, saggio? Beh, procede. Ora devo uscire, aiuto Pete, con una cosa. Dobbiamo... Sai, preferisco non sapere i dettagli. Sta tranquilla, ma... Spera un momento. Beh, negli ultimi tempi ti è capitato di lavorare fino a tardi la sera. E anch'io lavoravo fino a tardi. In realtà non lavoravo. Non guardarmi così, non sono nei guai. È solo che... È solo che ho avuto appuntamenti. Di quelli veri. Oh, ok. E c'è un uomo. L'ho visto qualche volta e... Beh... Sta andando bene. Che cosa mi stai chiedendo? Vorrei invitarlo a casa. Per un pastelon. Beh, con la mia spider-vita posso lasciarvi, sai... Parecchia privacy. No, mi piacerebbe presentartelo. E farvi conoscere. Ma se sei a disagio, lo capisco, tranquillo. Ma... Mi avevi convinto a pastelon. A dopo. Ok, certo. Meglio andare al draft. Queste correnti d'aria fanno al caso meno. Eccoci amici, vi abbiamo lasciato ovviamente gustare tutta la parte narrativa. Quindi ci siamo ad ora un TT. No, quella cosa lì che hai chiesto non la puoi fare, nel senso che con il credito del telefono lo puoi utilizzare alcune compagnie sì, alcune compagnie no. Devi controllare la tua compagnie. Dobbiamo ringraziare, tra l'altro, tantissimo, 420CZ col più, perché si è abbonato su TikTok. Grazie, 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 grazie davvero per l'abbonamento. Ti ricordo che se entri sul nostro Discord, c'è una sezione... E i colleghi devi entrare sul nostro Discord, collegare l'account Discord al tuo TikTok. E a quel punto puoi entrare nella sezione dedicata agli abbonati. E in questi giorni c'è un giveaway su Brustace, mi interessa. Solo per gli abbonati, devi entrare lì dentro, legge, c'è una sezione per gli abbonati. Cosa c'è? Eh? Cosa fa? A posto, vuoi niente. Vabbè. No, che ti ha così. Non sono tutti preoccupati per l'arrivo di Sandman. L'hai già fatto? Ottimo, ottimo. Sto a contento. No, adesso è già entrato nella sezione degli abbonati, giusto? Giusto, 420? Perfetto, spero di sì. Per il resto, amici, non so che ho testa. Sarà la chat un po' fastidiosetta? Comunque, vabbè, pace. Poi vedremo un attimino. In che senso? Ah. Ah. Ok. Eh, vabbè, però bloccarlo non ha senso. Non possiamo rispondere. Eh? Va bene, mi si è offeso sul fatto che è giusto. Allora, c'è, purtroppo qualcuno all'interno delle nostre live arriva, o ho fatto qualche video, appunto, scrive cose, incendo che secondo alcuni noi facciamo questa cosa qua. Io li obbligo, come vedete, non sapevo neanche cosa ho fatto, ma tutto l'izzato che è bloccarlo così, vabbè. In realtà avrei preferito parlarci, ma... E' la prima cosa che ci dice prima di fare i video e le live, se non volete farle, io non vi obbligo. Quindi mi ha fatto anche una cosa. Ok, adesso però Gabby, abbiamo detto di andare avanti con i dialoghi, io poi ho messo un altro dialoghi. No, 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 vabbè, adesso questo ciò lo dobbiamo guardare, perché se no poi... Esatto, mi si gioca poi tutto. Ci ragioniamo tra poco, così poi si chiudiamo. Non ti fermare, Gargan! Pronti al prossimo? Il prossimo? Credevo di fare da babysitter solo a Scorpion oggi. Martin Li. Martin Li. Maes. Miles Sto bene Tutto ok E' presto per i fuochi artificiali Andiamo Rosso Giallo Se sono Voi proteggete i prigionieri Io vado a sinistra State pronti Ai vostri posti Guardate Per 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 Car Per Per avrei dovuto fare un po di stretching la tua testa sarà un gran trofeo ok ragazzi stiamo confabulando perché adesso stavamo cercando di capire perché adesso stacchiamo siamo arrivati a 1 ora e 36 secondi 36 minuti quindi da qua ripartiremo la prossima live